Aeroporto di Fano, vecchi problemi ma nuovo corso. Nella Sala della Concordia l'Assemblea dei Soci ha nominato il nuovo amministratore che guiderà la società Fanum Fortune che gestisce l'aeroporto fanese. Un nuovo mandato per dare una spinta in avanti ad una situazione di stallo che si protrae nel tempo da parecchio e che ha visto le non poche velate ipotesi da parte pubblica di cedere le proprie quote se questa situazione non si fosse sbloccata il più presto possibile. Abbiamo nominato il nuovo amministratore che è il dottor Belli che prenderà il posto della ex amministratrice Rita Benini quindi siamo contenti, è una persona che è espressione di quel mondo quindi è un esperto, ex pilota che conosce il settore al quale abbiamo affidato anche un incarico cioè quello di preparare anche un piano di intervento anche in prospettiva di quella che deve essere il nuovo affidamento e la gestione dell'aeroporto. Giuseppe Belli classe 1948 un passato come pilota istruttore nell'aeronautica militare italiana, pilota di caccia e dopo una brillante carriera militare un'altrettanto corposa carriera nella compagnia di bandiera italiana L'Alitalia comandante di giambo sulle rotte intercontinentali con migliaia e migliaia di ore di volo sulle spalle. Le problematiche sono tantissime e naturalmente il mio compito è quello di cercare di vedere perché ci sono stati dei freni nello sviluppo di questo aeroporto che sulla carta dovrebbe avere delle caratteristiche che con l'andare del tempo e con il crescere delle esigenze dovrebbe essere al centro di tutto. Immaginate adesso diciamo che la tendenza dovrebbe essere quella di creare la struttura in cemento per avere capacità di poter dare tutta l'assistenza necessaria a tutto l'ambiente del volo. L'importante è che non ci si fermi a quello che è adesso. Quindi lo sforzo sarà quello di creare una struttura che valga la pena di avere una società come la Fanonfortune che possa durare nel tempo.